La pubblicazione di questo libro è abbastanza vicino al giorno della memoria che sarà a gennaio e poi soprattutto il fatto che con la guerra in Ucraina ultimamente le accuse di nazismo, di genocidio, la rievocazione di una serie di termini che sembravano relegati a un passato ormai storico, in realtà è tornata di attualità. Dovremmo fare un panorama piuttosto rapido del tutto perché il tempo è quello che è e oltretutto voi dovrete poi seguire anche la seconda parte che è la continuazione del corso che avevamo cominciato ieri, di conseguenza non voglio mettervi troppo dura prova. Però diciamo può essere interessante parlare della legislazione del 1938 esaminando il contesto italiano e io ne approfitterò per darvi letture, darvi alcune informazioni. Sul libro che è uscito nell'epoca della pandemia, mai un anno, dalle leggi razziali del fascismo alle amnistie postbelliche, che ho scritto in concomitanza con vari eventi, ma in particolare quello che è importante è che stranamente si è riallacciato a questi eventi e a questa terminologia perlomeno che nasce in Ucraina. È stata un'occasione per riesaminare queste leggi razziste del 1938 e per esaminare anche un po' qual era il contesto in cui queste leggi sono venute fuori e come mai questi atteggiamenti razzisti stanno risorgendo in Italia e in generale in Europa, con il generale spostamento verso destra dell'asse politico cui stiamo assistendo già da vario tempo. Io già due o tre anni fa in Germania avevo scritto su questi temi perché la presenza che c'è sempre stata sotterranea è pressoché inevitabile che ci sia una minima minoranza che si ricollega al nazifascismo, al fascismo eccetera, è sociologicamente inevitabile. Quando questa minoranza non è più un segmento folcloristico della società ma comincia a dilatarsi, ad avere addirittura delle rappresentanze negli organi locali e centrali, la cosa diventa più grave. Come giuristi noi siamo abituati alle norme generali ed astratte. Vedete che tutto si tiene, come dicono gli strutturalisti, tutto si tiene. Le norme generali astratte di cui parlavamo ieri erano anche le norme delle leggi razziali e in generale queste norme, se noi le studiamo oggi, hanno un aspetto contenutisticamente allarmante, ma tecnicamente molto assettico. Sono norme formulate con una terminologia molto precisa, ne vedremo alcuni esempi, che si interpretano come le altre norme del nostro ordinamento giuridico. Per questo ho pensato di illustrarvi anche alcuni passi di un libro di Massimo Ottolenghi, avvocato torinese che è mancato ormai qualche anno fa, centenario, intitolato La mia vita negli anni del fascismo e delle leggi razziali. Questo libro per me ha un valore particolare perché io ho conosciuto Massimo Ottolenghi come padre di una mia compagna di liceo. Quando facevo il liceo io ho visto rapidamente un attimo di smarrimento negli occhi, era già dopo l'Unità d'Italia comunque. Questo Massimo Ottolenghi scrive questa specie di autobiografia di un ebreo sotto il fascismo per i suoi primi trent'anni di vita, cioè proprio il momento in cui il fascismo con le leggi razziali ha impattato sulla sua esistenza. E dal punto di vista della comprensione dell'epoca è un complemento interessante alle leggi generali ed astratte perché è una descrizione specifica e concreta di come queste leggi impattano sulla vita delle singole persone che in fondo quando noi esaminiamo dal punto di vista giuridico storico a distanza di decenni queste leggi assumono una certa neutralità. L'impatto che viceversa questo ha avuto sull'esistenza delle persone è stato fortissimo. Siccome il tempo che abbiamo oggi a disposizione per questa specie di seminario è limitato, io mi metterò poi d'accordo con Magda, ho fatto fare dall'Accademia delle Scienze la scansione del libro di Massimo Ottolenghi perché oltretutto è pubblicato a Torino, io sono torinese, dalla casa editrice Blu di cui nessuno ha mai sentito parlare. Il libro graficamente è anche fatto molto bene, nel dubbio che poi ci fossero difficoltà a reperirlo, abbiamo fatto la scansione, non so sino a che punto possa essere considerata un'infrazione alla legge sul ciopi, ma la cosa resta fra noi per il sapere questo e altro, e voi potete a questo punto consultarlo. Il testo viceversa, essendo di Mimesis, non posso fare la scansione, però un'anticipazione abbastanza ampia di questo testo l'ho pubblicata col Max Planck di Francoforte in italiano e lo trovate in linea. Quindi io indico i due collegamenti a Magda e chi è interessato può poi ritrovarli. Il testo a stampa di Mimesis, essendo edito da poco, lo trovate in libreria se foste interessati e comunque l'ho già lasciato alle biblioteche, se riusciti ad accedere alla biblioteca della Università Centrale che ultimamente si è messa a fare degli strani orari chiudendo le quattro di pomeriggio, eccetera. Però i testi sono praticamente come riferimento ulteriore, sono quelli che vi ho detto. Dunque, il primo punto su cui possiamo soffermarci è questo. Era l'Italia uno stato in cui fosse presente un razzismo e in particolare un antisemitismo? La sensazione è che effettivamente l'Italia non avesse questo atteggiamento. Io cercherò di leggervi alcune parti che ovviamente, come sempre, quando uno le cerca non le trova. All'epoca fascista è stata predisposta un lavoro enciclopedico che ha tutt'oggi un grosso valore culturale, l'enciclopedia Treccani. Con Bobbio si diceva che è un'enciclopedia particolarmente buona perché ingloba 25 anni di lavoro culturale prefascista. Comunque è effettivamente un'enciclopedia decisamente interessante se la si esamina da questo punto di vista perché incomincia a essere pubblicata negli anni 30 e quindi si sviluppa in parallelo all'atmosfera progressivamente vincolata al nazionalsocialismo e in particolare in parallelo con l'atmosfera delle leggi razziali. La situazione in Italia, storicamente esaminata, è la seguente. La comunità più sicuramente presente sul territorio italiano dall'arco dell'antichità a oggi sono gli ebrei di Roma. L'Italia, con questa sua struttura di penisola, con vai e vieni di truppe straniere, eccetera, ha avuto un'evoluzione demografica molto peculiare. La comunità ebraica di Roma è la comunità più radicata, diciamo in modo documentato, radicata in Italia. Di conseguenza, ebrei esistevano in tutta la penisola anche prima dell'unità e l'indipendenza degli ebrei e dei valdesi è stata sancita dallo Statuto Albertino. Carlo Alberto, re per tant'anni bestemmiato e pianto, effettivamente nel 1848 ha riconosciuto a ebrei e valdesi i pieni diritti civili e politici. Quindi, a partire da questo momento, sarebbe corretto non tanto parlare di ebrei, quanto di italiani di religione ebraica, come ci sono italiani di religione valdese. Lo Statuto Albertino è la Costituzione che regge lo Stato Sabaudo e con l'espansione dello Stato Sabaudo nell'unificazione d'Italia diventa la Costituzione dello Stato Italiano Unitario. Quindi, dal punto di vista giuridico, il primo quesito che sorge è ma se c'è una Costituzione che stabilisce la parità di diritti di ebrei e valdesi, com'è possibile che il fascismo emani delle leggi che privano di questi diritti gli ebrei? I valdesi se ne sono cavata parzialmente. E' possibile perché, e questo è importante segnalarlo dal punto di vista giuridico, perché non tutti se lo ricordano, perché lo Statuto Albertino è, come le Costituzioni fino agli anni 30, una Costituzione flessibile. Le Costituzioni, per i non giuristi, si dividono in Costituzioni flessibili e Costituzioni rigide. Le Costituzioni flessibili sono leggi come tutte le altre, più solenni, con una denominazione diversa, però sono leggi, quindi possono essere modificati da una legge dello stesso livello successiva. In altre parole, le modifiche all'interno del diritto avvengono sempre tra norme dello stesso livello o da norme di livello superiore verso quello inferiore. Una Costituzione che contenga una norma, una Costituzione flessibile, può essere modificata con una legge ordinaria. Quindi, dal punto di vista puramente giuridico, lo Statuto Albertino ha continuato a essere in vigore, sino praticamente all'entrata in vigore dell'attuale Costituzione repubblicana, anche durante l'epoca fascista, perché qualunque decisione venisse presa attraverso gli organi più o meno rappresentativi era necessariamente una modifica del testo costituzionale. Questo vi spiega perché due Costituzioni particolarmente, diciamo, risalenti, come lo Statuto Albertino e la Costituzione di Weimar, successiva alla caduta dell'impero tedesco in Germania, abbiano continuato ad avere la loro vigenza sotto il fascismo in Italia, sotto il nazionalsocialismo in Germania, sino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. La Costituzione socialdemocratica di Weimar esisteva e aveva vigore, nella misura in cui non la si svuotava, in Germania nazionalsocialista, sino alla fine della Seconda Guerra Mondiale con la sostituzione di quella che è stata chiamata legge fondamentale e non Costituzione. Ancora oggi è Grundgesetz, legge fondamentale. Questo perché quando è stata emanata la Germania era già divisa in due parti e allora i costituenti post-bellici tedeschi non hanno voluto emanare una Costituzione per la Germania federale, cioè per le tre zone di occupazione degli stati occidentali, perché una Costituzione per quei tre stati avrebbe sancito definitivamente la divisione della Germania, cosa che i tedeschi e anche i teutofili, come sottoscritto, hanno sempre sentito come una rottura inaccettabile perché in fondo la cultura tedesca comprende anche la parte orientale. Pensate che nella parte orientale è rimasta Berlino con uno status peculiare, ma era stato un centro come Lipsia, che era il centro culturale universitario della Germania, per cui la Costituzione tedesca che ha sostituito la Costituzione di Weimar e che è restata fino ai giorni nostri è una legge fondamentale. Statuto Albertino e legge di Weimar sono costituzioni flessibili che restano all'interno dello Stato nazionalsocialista e fascista. L'articolo 24 dello Statuto Albertino è abbastanza chiaro. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono uguali davanti alla legge. Vedete, questa è una tipica formulazione generale e astratta. Più generale e astratto di così, effettivamente, tutti godono ugualmente i diritti civili e politici e sono messi alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalla legge. Questa è sempre la porta che viene lasciata aperta. Deve essere però una norma, una legge, e qui si intende legge in senso formale, cioè emanata dall'organo legislativo, quindi dello stesso livello della norma che viene modificata. La norma modificante deve avere lo stesso livello della norma modificata. La difficoltà, stranamente, nel 1848, maggiore per questa concessione dei diritti civili e politici, veniva per i valdesi, perché i valdesi, essendo equiparati ai protestanti, godevano della protezione internazionale della Prussia e dell'Inghilterra. E allora l'ambiente politico albertino si poneva al problema se la concessione di questi diritti non poteva essere interpretata come una concessione nei riguardi delle ingerenze prussiane e inglesi che c'erano state. È stato comunque superato e di conseguenza è nato a questa equiparazione. Ovviamente in questo contesto sono stati anche aboliti i privilegi della religione cattolica e tra l'altro sono stati espulsi i gesuiti. Quindi è stata un'epoca, come dire, di un movimento laicista piuttosto forte. Comunque, ritornando, la legge di poco posteriore, cioè la legge sineo, precisava che la differenza di culto non impedisce il godimento di diritti civili e militari. Questa è la situazione ereditata dal fascismo e a partire dall'affermazione elettorale del fascismo del 1924 nasce una legislazione che progressivamente culminerà con la recezione del modello nazionalsocialista e quindi con l'esclusione degli ebrei da ogni attività pubblica. Un esempio di quella che era l'atmosfera in cui sono state emanate queste leggi si trova nell'enciclopedia italiana, quella che vi dicevo, l'enciclopedia Treccani, che sono 35 volumi pubblicati dopo il 29. Diciamo che il corpus centrale, cioè non le appendici, sono tra il 29 e il 36, quindi in piena epoca fascista. Se uno controlla quello che si trova in questa enciclopedia, si rende conto che l'ideologia nazista, nazionalsocialista, razzista, è stata recepita sotto l'impulso, il desiderio di Mussolini di collocarsi totalmente a fianco di Hitler. L'ambiente, io vi citerò alcuni casi perché generalmente non ci si fa caso, dunque, prendiamo anzitutto una voce che potrebbe essere interessante, la voce fascismo. La voce fascismo che io definisco una voce certamente non imparziale ma certamente autorevole è quella che si trova nella Treccani perché porta la firma di Benito Mussolini. Per evitare critiche, dico porta la firma e non è stata scritta da, perché a quell'epoca Mussolini non poteva fare tutto anche se avrebbe voluto essere o si riteneva onnipotente. Il fatto che però porti la firma di Mussolini vuol dire che l'aveva rivista, l'aveva provata. Ora, questa legge, questa descrizione del fascismo non contiene la indicazione di una parola che potrebbe essere razza o razzismo. Vi compare solamente la indicazione della politica demografica del fascismo che è la grande mania di Mussolini avere uno stato numeroso significa avere un esercito numeroso e quindi l'ideologia degli otto milioni di baionette alleggia sui testi in cui figura la parola demografia o politica demografica del fascismo. La voce razza all'interno del volume rivela però delle sorprese che non immaginiamo. Siamo nel 1935 quindi praticamente tre anni prima dell'emanazione delle leggi razziali. Cito e mi raccomando sentite le virgolette con cui pronuncio questa frase perché è una frase tratta dice l'estensore di questa nota che è un professore dell'Università di Napoli antropologo Gioachino Sera che scrive una critica degli antropologi tedeschi virgolette i loro testi sono virgolette scritti con un così evidente entusiasmo nordico che lascia trasparire troppo chiaramente la tendenziosità e l'inaccettabilità dei risultati quindi non è che ci fosse in un contesto fortemente fascistizzato abbiamo citato prima quella voce ispirata a Mussolini quindi è questo il contesto continuo questo professore ne deriva sempre tra virgolette una unilateralità dei risultati della maggior parte di questi studi razziali cioè l'affermata prevalenza dell'elemento nordico nella genesi della civiltà europea tale prevalenza continua sempre il testo sarebbe determinata da una maggiore creatività della razza nordica in confronto con tutte le altre stando agli autori suddetti ciò senza dubbio non corrisponde alla realtà io realmente ho letto delle critiche più radicali e tecnicamente ben formulate come questa la conclusione di questo articolo del professor Sera è il seguente con la storia della civiltà come la storia della civiltà non autorizza esclusivismi di popoli nell'opera creativa della civiltà umana così l'antropologia non autorizza esclusivismi di razza questa è enciclopedia Trecani 1935 quindi l'atmosfera era un poco questa è solamente con l'appendice all'enciclopedia Trecani del 38 che compare il lemma politica fascista della razza come addendum alla voce razza del 1935 che era quella che viceversa trattava piuttosto male i razzisti o razziologi tedeschi l'autore di questa voce è il direttore del giornale d'Italia che era tradizionalmente un giornale della destra poi diventato praticamente un organo del partito fascista questo a partire da questo momento si tende a presentare la politica anti-ebraica dello Stato italiano come importazione come importazione del modello che era stato applicato nelle colonie dell'Africa orientale o per usare la terminologia dell'epoca che era stato applicato nell'impero vi cito la voce dice questo nuovo tipo di impero che ammette nel suo territorio vaste masse bianche di nazionali crea anche un problema nuovo che è quello dei rapporti fra nazionali e indigeni e qui nasce questa questa divisione razziale con la popolazione delle colonie e in particolare vengono vietate cito le relazioni di carattere coniugali tra cittadini italiani e sudditi dell'Africa le colonie adesso non sto questo reato di concubinato era in realtà punito dal regime è il famoso reato di madamato l'influenza del piemontese il dialetto in queste cose è abbastanza perché queste signore che erano diventate poi concubine delle truppe italiane di occupazione venivano chiamate le madame e piemontese madama ha due significati o la signora anche in senso alto piazza madama cristina per dire può anche significare ai tempi in cui si manifestava eccetera arriva la madama era la polizia perché aveva la sede a palazzo madama e quindi arriva la madama scappa che era generalmente quello che si praticava lo praticava anche Marx Marx è passato la storia per la velocità con cui scappava insieme a Engels con davanti alla polizia con cui si trovava a che fare quindi dicevo queste attività nelle colonie è servita come modello anche legislativo per introdurre la discriminazione raziale tra i regnicoli e le popolazioni dell'Africa tenete presente che la cosa più grave che avviene nel contesto storico sarà l'olocausto e cioè l'eliminazione di un'intera stirpe un genocidio i tedeschi hanno sperimentato questo genocidio nelle colonie nelle loro colonie africane cioè alcune tribù di Herrera e altri sono state eradicate completamente in quanto essendosi militarmente opposte all'occupazione coloniale nazionalsocialista come reazione potete immaginare la potenza militare del nazionalsocialismo di fronte alle tribù autoctone sono state però non solamente sconfitte ma eliminate e quindi le radici della legislazione italiana antiebraica e le radici della eliminazione fisica dei diversi razzialmente in Germania ha il suo modello nella sperimentazione che è stata fatta nelle colonie medesime questo diciamo avviene in un contesto in cui progressivamente la figura di Benito Mussolini ha un peso determinante parallelo a quello che assume il Führer che si considera un allievo di Mussolini tenete conto che Mussolini prende il potere nel 22 e in realtà negli anni successivi Hitler cerca di fare la stessa cosa e finisce in galera per un certo tempo in una bellissima zona lacustre vicino a Monaco trattato benissimo ma devo dire vi è andata peggio ora Mussolini che era il modello di Hitler che atteggiamento aveva rispetto agli ebrei lui personalmente perché per emanare una cioè dovrebbe il problema è che io vi illustro due casi uno che è molto noto ed è quello di Margherita Sarfatti l'avete sentita nominare voi ecco perché Margherita Sarfatti dal punto di vista intellettuale è un personaggio eccezionale storica dell'arte molte sue biografie straniere trovate poi tutte le indicazioni rigorosamente bibliografiche nei miei libri perché io sono di una pedanteria estrema però aiuta se uno deve trovare i libri le biografie della Sarfatti indicano che ha avuto una rilevanza assolutamente internazionale era proveniente da una famiglia ebraica dell'area veneta ed è stata l'amante di Mussolini ma dichiarata al punto che quando ha compiuto un viaggio negli Stati Uniti è stata ricevuta con gli onori riservati alla consorte di un capo di Stato come si suol dire dietro ogni grande uomo c'è una grande donna e in questo caso Margherita Sarfatti era un personaggio di prima grandezza è rilevante in questo contesto tenete conto che qui è stato fatto una bella mostra al Museo del Novecento in Piazza del Duomo e proprio sulla Sarfatti e i libri qualche tempo fa sulla Sarfatti erano ancora nella libreria al piano terreno la Sarfatti storica dell'arte è quella che indica a Mussolini la grandiosità dell'impero romano come modello non solo artistico a cui ispirarsi quindi tutta la prosopopea legata all'impero romano la grandezza è dovuta all'influenza di Margherita Sarfatti che poi le persone divorate dal senso del potere come Mussolini e tanti altri non sappiano cioè abbiano il senso del potere che cancella gli affetti personali è legato al fatto che nel 38 Mussolini emana le leggi razziali Margherita Sarfatti deve scappare negli Stati Uniti e di lì poi la ritroviamo a San Paolo in Brasile e da altre parti la sorella di Margherita Sarfatti muore nei campi di Stemegno tedeschi quindi devo dire sul piano umano è per conto mio una cosa di una gravità estrema perché al di là del piano politico e del piano normativo legislativo c'è anche questo aspetto incredibilmente umano di una persona che per lunghissimi anni è rimasto legato affettivamente ma in modo molto profondo a Margherita Sarfatti e poi improvvisamente la costringe alla fuga e stermina una parte della sua famiglia è un'eccezione ma io direi di no perché un caso meno noto che non ho fatto che non sono riuscito a citare nel libro perché ovviamente se ne scopre sempre un pezzo ve ne accorgerete se pubblicherete delle cose subito dopo aver pubblicato trovate che c'era una cosa fondamentale che potevate dire e che non avete detto quindi accanto a mi dicevo Margherita Sarfatti era un caso eccezionale legato a vincoli affettivi eccetera quando ho trovato che una delle persone più legate a Mussolini era Aldo Finzi che anche questo come cognome vi indica che era chiaramente di radici ebraiche è stato un pilota della grande guerra e di conseguenza ha questa sua fama come aviatore ma soprattutto quando aderisce al fascismo e Mussolini lo conosce ha nei riguardi di questa persona un duplice moto di affinità e di fiducia per cui la tendenza degli autocrati è quella di accentrare almeno formalmente il potere quindi Mussolini oltre che capo del governo si arroga anche il ministero degli interni però siccome non può far tutto come vice ministro degli interni di uno stato fascista nomina Aldo Finzi che voleva dire persona di cui aveva una fiducia totale Aldo Finzi progressivamente si distanzia da Mussolini e a un certo punto con l'omicidio Matteotti in cui sembra che sia stato coinvolto ma non è mai stato chiarito il contesto anche Aldo Finzi viene trasferito nel nuovo ministero dell'aeronautica e Aldo Finzi è quello che crea l'aeronautica militare italiana quindi le radici sono quelle e da questo punto di vista è una persona che sino all'ultimo gode della fiducia di Mussolini sarà poi nella parte finale della vita che passa ad avversare Mussolini anche per la politica anti-ebraica che coinvolge famiglie conoscenti suoi e di conseguenza la sua storia termina fuori dall'ambito fascista però è stata la persona che ha rappresentato Mussolini nel ministero degli interni che per la gestione della società è il ministero essenziale non a caso adesso aspira il nostro Salvini qualunque riferimento è inevitabile e d'altra parte dal punto di vista militare è il fondatore dell'aeronautica militare italiana per delega di Mussolini quindi dal punto di vista personale io ritengo che ci fosse dal punto di vista di Mussolini una totale neutralità come minimo nei riguardi della razza ebraica il tentativo di essere alla pari di equiparare di non perdere il legame con la Germania che lui vedeva come ormai avviata alla vittoria finale fa sì che recepisca la legislazione tedesca fondata sui principi razzisti di Rosenberg e oltretutto tenti in certa misura di salvare i numerosi ebrei che avevano aderito al fascismo ci sono molti ebrei che sono fascisti della prima ora e per i quali verrà poi istituita un'apposita struttura che li arianizza per legge perché a un certo punto essendo stati questi ebrei partecipanti alla marcia su Roma elementi essenziali come abbiamo visto nel caso di Finzi eccetera nell'edificazione del fascismo viene creato quello che si chiama tribunale della razza correntemente ma in realtà è commissione per le discriminazioni che è un organo misterioso perché non ha verbali formula un parere che però è vincolante per il ministero dell'interno dove per combinazione c'era il rappresentante di Mussolini e per questa via vengono dichiarati ariani gli ebrei che hanno favorito il fascismo ovviamente non ho sotto mano i commenti che possono aver fatto i tedeschi sull'argomento perché è effettivamente una struttura in cui i tedeschi non avrebbero approvato d'altra parte quando pensiamo che le nostre truppe partivano per l'Africa orientale cantando e se l'Africa si piglia si fa tutta una famiglia non era esattamente quello che pensavano i razzisti di lì il reato di madamato eccetera eccetera e se l'Africa si piglia si fa tutta una famiglia c'erano i nazisti che si inghiozzavano sul tavolo perché non gli andava veramente giù in questo contesto l'apparato legislativo formula le leggi razziali che inizia col giugno del 38 quando il ministro degli interni formalmente è Benito Mussolini informalmente è Aldo Finzi quindi pensate la preparazione delle leggi razziali nasce con il ministero degli interni sotto Aldo Finzi istituisce la commissione per la preparazione di provvedimenti legislativi concernenti la difesa della razza italiana quale sia la razza italiana non si sa bene c'è stato ultimamente in Valle d'Aosta ultimamente no anni fa un presidente della regione autonoma Valle d'Aosta che ha effettivamente detto che gli aostani sono a sé c'è una razza aostana al che una voce si è levata e ha detto no la razza aostana non è una sono due la pezzata bianca e la pezzata nera e con questo il discorso sulla razza della Valle d'Aosta è finito qui Benito Mussolini nel 1938 istituisce questa commissione che è quella che prepara i testi legislativi in che cosa consistono questi testi legislativi? Nell'esclusione degli ebrei da qualsiasi attività pubblica io vi leggo l'articolo 1 che vi rende un'idea 1938 quindi il titolo della legge integrazione delle norme per la difesa della razza nella scuola italiana quindi è una delle leggi articolo 1 a qualsiasi ufficio o d'impiego nelle scuole di ogni ordine grado pubbliche o private frequentate da alunni italiani non possono essere ammesse persone di razza ebraica anche se siano state comprese in graduatorie di concorsi anteriormente al presente decreto quindi voi vedete l'aggancio legislativo per annullare norme legislative anteriori perché se no giuridicamente in un contesto come di diritto positivo continentale come il nostro ci sarebbero stati dei problemi non possono essere ammessi al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza che era quella che permetteva di accedere all'insegnamento universitario e che è stata poi sostituita dal dottorato io sono ancora uno di quelli che non ha il dottorato ma ha la libera docenza perché è stata fino a quando è stato istituito il dottorato da noi esisteva questo istituto che esisteva anche nella tradizione europea continentale della libera docenza agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati quelli relativi agli istituti di educazione pubblici e privati per alunni italiani e quelli per la vigilanza nelle scuole elementari inoltre l'articolo 2 specifica che sono esclusi le persone che appartengono a accademie istituti associazioni di scienze lettere ed arti non possono farne parte persone di razza ebraica e così via questo per dirvi che cosa ne è però di questa popolazione ebraica che non può frequentare le scuole vengono istituiti dei ghetti scolastici per i fanciulli articolo 5 per i fanciulli di razza ebraica sono istituite a spese dello Stato speciali sezioni di scuole elementare nelle località in cui il numero di esse non sia inferiori a 10 e poi seguono le norme con cui devono funzionare le scuole israelite io più di tanto su questo non volevo dirvi però vi rendete conto che da questo punto di vista l'impatto sulla vita delle persone è totale perché oltre che abbiamo visto per le scuole ma vale per le professioni liberali quindi pensate all'alto numero di avvocati e medici che erano ebraici poi pensate a una comunità perfettamente integrata da secoli con la struttura italiana e di conseguenza avete un problema generalizzato che lo stesso fascismo si è trovato in casa perché molti ebrei erano in realtà fascisti della prima ora marcia su Roma sciarpa littoria tutte cose di questo genere questa legislazione viene applicata da zelanti e soprattutto l'esclusione delle proprietà immobiliari e attività commerciali provoca un movimento da parte di persone senza scrupoli per appropriarsi dei beni di queste persone come è capitato anche nella Germania cioè il parallelismo in questo è totale il problema qui sorge in un altro sorge in un momento successivo quando cioè finita la guerra intervengono delle norme che stabiliscono la restituzione agli aventi diritto dei beni che sono stati espropriati agli ebrei sulla base di leggi razziali il problema è che se fosse il passaggio dall'ebreo all'approfittatore locale che era poi nel 90% dei casi sarebbe relativamente semplice il problema che si è posto in realtà è che l'approfittatore dell'espropriazione ebraica a sua volta ha ceduto il bene a una persona in buona fede e quindi quando io dopo la fine della guerra devo ripristinare lo status quo antea mi trovo col fatto che c'è un possessore in perfetta buona fede che non ha partecipato alla legislazione ai frutti della legislazione ebraica che al limite specialmente se le cessioni sono state più di una o due ignora quale sia l'origine del bene e a questo punto ha tutti i titoli per evitare l'espropriazione questo lo vedremo è una delle conseguenze del ripristino della situazione per citare il professor Renato Treves di cui parlavamo prima il problema è stato quando sono rientrati dall'esilio gli ebrei che erano andati in esilio cacciati dall'università perché ebrei e sono stati reintegrati nel loro posto e nel loro posto c'erano dei colleghi che avevano vinto il concorso regolarmente e che di conseguenza si trovavano in una situazione di conflitto con altri colleghi con cui avevano magari degli ottimi rapporti come è capitato più di una volta quindi gli sconquassi della legislazione antiebraica continuano anche dopo la fine della guerra con il ripristino della legalità e l'annullamento delle conseguenze negative pensate al caso che poi semmai esamineremo o che comunque trovate nel libro gli attentatori di Hitler dell'attentato fallito si riunivano nel castello di un Juncker di un proprietario terriero di quella proprietà terriera favorevole al nazismo conservatrice più che mai e quando l'attentato è fallito la proprietà il latifondo di questa famiglia è stato espropriato ceduto a vari nazionalsocialisti e dopo la guerra si è provveduti anche in Germania a ripristinare la situazione attuale il processo per la restituzione agli eredi della famiglia di Juncker non è tuttora terminato questo per dirvi che l'onda lunga di queste cose è molto molto più complessa di quello che potrebbe sembrare questo comunque per concludere almeno questa parte è la parte meno grave perché con la parte meno grave perché si riferisce a beni materiali al fatto di creare delle difficoltà alle professioni ma non si attenta all'esistenza stessa delle persone viceversa con l'avvento della Repubblica di Salò e quindi praticamente la gestione da parte degli nazionalsocialisti presenti nella Repubblica di Salò dell'epurazione qui la partecipazione alla strage degli ebrei italiani è totale ci sono stati dei casi in cui si è cercato di ovviare ma sono casi individuali la struttura è stata che la Repubblica di Salò come stato vassallo della Germania nazionalsocialista ha lasciato attuare e in certi limiti contribuito alla epurazione degli ebrei e soprattutto alla persecuzione degli ebrei e al loro sterminio questo è grosso modo l'accenno alle origini di questa legislazione io vi proporrei adesso di interromperci per cinque minuti alle undici riprendiamo e vediamo un momento ulteriori elementi e qualche passo dal libro di Massimo Ottolenghi che ci spiega come la vita quotidiana delle persone si fosse trasformata prima che avvenissero i drammi della deportazione ad Achao o cose di questo genere si fosse già trasformata solamente per l'esclusione dalle professioni e cose di questo genere se ci sono delle domande abbiamo tempo anche per parlarne quindi ditemi pure scusate quello che avevo dimenticato di dirvi a proposito della Treccani abbiamo letto questa critica molto dura nei riguardi dei testi tedeschi razzisti cioè che fondavano la superiorità della razza ariana su tutte le altre ma quello che risulta anche dalla lettura della Treccani è che quasi tutte le voci che si riferiscono alla storia degli ebrei al diritto ebraico eccetera sono affidati a rabbini e a rabbini delle varie città italiane io le ho citate tutte nel libro non sono stato dirvelo però mi sembra importante dirlo cioè non è che fosse quel professore a cui ha dato la voce sul razzismo tedesco e lui avendo il dente avvelenato con qualche professore tedesco si è tolto il sassolino della scarpa no qui c'è proprio la redazione della rivista che affida sette otto voci legate alla cultura ebraica ai rabbini delle varie città italiane quindi praticamente fino al volume dell'appendice del 1938 data che coincide con l'emanazione delle leggi razziali la Treccani e il contesto culturale che era alle spalle della Treccani controllato dai fascisti il problema ebraico non se l'era completamente posto ecco questo se poi guardate lo trovate ma quel passo che già vi ho citato dell'antropologo dell'università indica chiaramente che non c'era questa consonanza di intenti tra i due ambienti intervallo grazie a tutti Grazie. 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 ex legge, quegli ebrei che avevano una posizione rilevante nella struttura dello stesso fascismo o avevano partecipato a eventi storici ed erano stati insegnati di onorificenze fasciste. Quello che capita è che con la fine della guerra l'ingiustizia di queste norme viene dichiarata pubblica e scattano due misure. Da un lato ripristinare la situazione dei cittadini italiani di razza ebraica che erano stati allontanati dalle loro professioni o che erano stati privati delle loro proprietà e quindi nasce questo fenomeno di reintegro con i problemi di tutelare i successivi acquirenti in buona fede di un bene espropriato a un ebreo ovvero la occupazione di una cattedra o di una posizione professionale legittimamente conseguita però originariamente sottratta a un detentore legittimo che era un italiano di razza ebraica. Vi ho accennato al caso limite ancora presente in Germania che la successiva cessione di un bene a proprietari in buona fede, la successiva acquisizione di un incarico pubblico attraverso un concorso regolare ha generato una situazione che è difficile da sanare. Cioè quando è commessa un'ingiustizia è effettivamente difficile ripristinare la situazione anteriore senza problemi. D'altra parte abbiamo detto molte delle persone che hanno, che si sono appropriate di beni ebrei usufruendo dalla legislazione fascista erano in realtà intenzionate a trarne lucro, cioè erano in fondo in mala fede. Molte persone hanno realizzato degli atti persecutori, hanno partecipato ad attività che non possono essere ammesse e di conseguenza sono cominciati i problemi della cosiddetta giustizia transizionale. Questo per chi si occuperà di temi giuridici è un tema che è restato e che diventa di attualità ogni volta che un regime di qualsiasi genere viene sostituito. Regime di per sé è un termine neutro, nel senso che non indica, lo si usa come sinonimo di un regime autoritario generalmente, però dal punto di vista tecnico-politico regime è la forma di governo, neutra. Poi può essere una forma democratica, può essere una forma teocratica, può essere una forma autoritaria. Un regime a questo punto è neutro ancora. Dal punto di vista di quello che è avvenuto di conseguenza si tratta di ripristinare una determinata situazione e questo avviene ogni volta che c'è un cambio brusco di regime, da regime democratico a regime autocratico o da regime autocratico a regime democratico è uguale. Si tratta cioè di quella giustizia transizionale che è sempre più oggetto di studio perché ci sono stati i casi dell'America Latina, pensate ai militari in Brasile e in Argentina. Ci sono stati tutti i casi in cui un qualche governo è sostituito da un altro governo e quindi si cerca di regolare i conti e spesso sono regolamenti di conti nel senso peggiore della parola. La giustizia transizionale si occupa di questi temi. Direi che gli esempi più chiari di giustizia transizionale sono il processo di Norimberga per i tedeschi e il processo di Tokyo per i giapponesi di cui si parla di meno. gli italiani sono riusciti a non avere una Norimberga loro perché con la consuetabilità di essere presenti in entrambe le parti al momento buono è il risultato che noi eravamo dalla parte del vincitore. Quindi c'è stato un prezzo di vite umane e di tensioni inenarrabilmente caro che è stato pagato complessivamente dalla nazione italiana ma globalmente è avvenuto che con lo sbarco degli alleati in Sicilia alla fine della guerra la fuga del re e l'abbandono delle truppe italiane questa che è la seconda pagina ignominiosa scritta da Vittorio Emanuele III una grande dinastia come quella dei Savoia Carlo Alberto e lo statuto albertino che abbiamo citato prima che finisce nel modo più miserando. Scappa, abbandona l'esercito ma abbandonare l'esercito forse anche lì sono i ricordi familiari che a volte aiutano. Il re capo in testa delle truppe italiane è scappato da Roma per sottrarsi ai tedeschi, si è unito agli alleati occidentali, agli Stati Uniti che erano e non ha lasciato nessuna disposizione su quello che dovevano fare le truppe italiane. Quindi avete il caso di Cefalonia dove essendo vicine truppe tedesche e truppe italiane i tedeschi hanno dovuto considerare gli italiani nemici e li hanno sterminati. In famiglia abbiamo sempre ricordato il caso di un nostro caro amico marinaio che era stato dimenticato a guardia di un faro in Sardegna e mettetevi nei panni sempre la norma generale è stata una bella cosa ma la vita individuale voi siete piazzato in un faro in Sardegna più nessuno vi dice niente e questo può anche andare bene però non arrivano più i soldi non arrivano più il cibo e le altre cose e non è esattamente gradevole aspettare a tempo indeterminato che capiti qualcosa. Il sistema di comunicazione alla fine della guerra era solamente attraverso la radio che però veniva controllata. Di conseguenza cosa può fare una persona di questo genere? Andare a vedere al comando a Roma che cosa capita. Se però voi avete avuto l'ordine di presidiare un faro e lasciate il luogo cui siete stati comandati è diserzione. In tempo di guerra la diserzione viene punita con la fucilazione. Se voi trovate un ufficiale che sia rigoroso dall'altra parte il rischio che correte è questo. Ovviamente questo amico ha poi a un certo punto scelto il rischio e ha scoperto che non c'era più lo Stato italiano di conseguenza non poteva più essere fucilato. Notate però sempre per tornare con le storie personali e allora questo amico è finito al porto militare di Taranto dove però non arrivava la paga. Cioè rendetevi conto sono queste le cose che impattano sulla vita quotidiana. Voi avete dei marinai, un graduato al massimo, che ha bisogno della paga e non arrivava la paga. Allora siccome questo sotto ufficiale amico di famiglia dirigeva un vaporetto, un rimorchiatore che portava le navi in porto, che cosa faceva? Arrivano le navi americane, lui dice cavo o quello lancia il cavo, lui invece di attaccarlo alla vita per il traino lo attacca al verricello e glielo avvolge via. Quando non ci stava più cavo, li tira dentro al porto, taglia il cavo, dà la vendita del cavo di canapa, ricavava ai pescatori locali che non avevano la canapa per riparare le reti, ricavava il denaro per pagare il suo equipaggio. Parenthesi, questo con gli americani, perché gli americani avevano ampie dotazioni e non conoscevano il Mediterraneo. Dopo gli americani sono arrivati gli inglesi, grande nazione marittima, diceva questo nostro amico e si vedeva subito. Arriva la prima nave inglese, cavo o lanciano il cavo di canapa, solita storia, taglio. Arriva la seconda nave inglese, cavo o arriva un cavo di acciaio. E a questo punto l'ammirazione per la marina inglese di questo nostro amico è diventata colossale. Però vi ho raccontato questi fatti per dirvi, quando si dice il disfacimento dopo l'8 settembre, era il grande disfacimento per cui il re era scappato, l'Italia, l'esercito regio è diventato da quel momento alleato degli Stati Uniti, eccetera. Ma poi la vita quotidiana che scorreva era quella legata a queste cose, che improvvisamente non si sapeva più. Un esempio molto tipico, forse avete avuto occasione di vederlo e se no cercate di vederlo in streaming, è il Mediterraneo. Mediterraneo è un film legato esattamente all'8 settembre, in cui arriva questo aereo che comunica che i nemici sono diventati alleati e gli alleati sono diventati nemici e non sanno più bene come comportarsi. Quindi ci sono queste due attività che sono profondamente diverse. Dal punto di vista della giustizia transizionale, l'Italia, avendo avuto l'esercito regio che ha affiancato gli alleati americani nella risalita della penisola, al momento finale della guerra è risultato partecipante dal lato dei vincitori e quindi da noi una Norimberga o una Tokyo italiana non è esistita. Viceversa, in Germania e in Giappone è esistita questa giustizia transizionale esemplare, ma ci sono stati notevoli altri casi di questo genere. e poi ci sono appunto i casi singoli, cioè gente che ha commesso dei reati approfittando della legislazione fascista, gente che in qualche modo si è arricchita a spese di altri e viene ripristinata a un certo punto un minimo di giustizia. Vi accennavo il caso delle cattedre, ma in realtà esisteva quello che è stata chiamata la Magna Carta della giustizia transizionale italiana ed è cioè l'amnistia Togliatti, emanata da Togliatti, nel 1946. Che cosa è capitato? Che con la fine della guerra, la dinastia Savoia che si era purtroppo inimicata l'intera nazione o perlomeno la maggioranza che ha partecipato al referendum, soprattutto a causa dell'otto settembre di questa fuga del re, cancellando ripeto una storia gloriosa di una dinastia, è stata sostituita dalla Repubblica. A questo punto Togliatti, cioè viene formato un governo in cui per la prima e unica volta sono presenti i comunisti e in particolare è presente Togliatti come ministro della giustizia. Con Luggimiranza, considerando che sia i partigiani sia la parte avversa avevano ancora il mitra in cantina, Togliatti ha cercato di salvare la pace sociale e quindi ha stabilito che i reati commessi durante l'epoca fascista e che quindi avrebbero potuto essere perseguiti nella giustizia transizionale col passaggio alla Repubblica erano amnistiati. Amnistia significa che viene cancellato il reato imputato alla singola persona. Quindi la singola persona viene esentata dal processo e dalla pena. L'amnistia del 1946 è stata criticata all'interno del partito comunista in modo molto forte anche perché il partito comunista era quello che maggiormente aveva partecipato alla lotta di liberazione. L'unità stessa ha scritto degli articoli pesanti contro Togliatti e in generale l'atteggiamento verso i reati era piuttosto negativo. Si sarebbe voluto punire questi reati che erano stati commessi sotto il fascismo. L'amnistia nasce ecco vi dicevo Mario Berlinguer non Enrico Mario che è il padre del partito di azione ha scritto un articolo su non mollare che già il titolo vi indica che era un giornale della resistenza intitolato quando è uscito nel 1946 l'amnistia Togliatti. L'amnistia è pericolosa, dimentica le vittime per perdonare i persecutori. Questo era l'atteggiamento che ricorreva nel caso specifico e che ricorre in tutti i casi in cui c'è una giustizia transizionale. È chiaro che al momento in cui si vuole ripristinare la pace sociale ci sono una serie di casi individuali che non vengono soddisfatti. Come funziona un'amnistia? Bene, viene emanata a questo punto una legge norma generale d'astratta di livello alto che cancella le pene individuali che sono state o sono prevedibilmente combinabili per certe persone. Quindi non cancella il reato in sé. È un'amnistia e quindi funziona in questo modo. Per quello che riguarda quello che abbiamo detto essere la magna carta della giustizia transizionale italiana viene istituito un alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo e quindi questo alto commissariato individua una serie di norme penali, quindi norme generali ed astratte, che verranno applicate da un tribunale che tutto sommato è un tribunale speciale. Prenderanno il nome di corti straordinarie di assise e sono istituite presso tutte le corti d'assise d'Italia. Quindi viene ripristinato un sistema giudiziario ad hoc per l'applicazione di questa giustizia transizionale, di questa amnistia togliatti, il cui articolo 1 è il seguente. Sono abrogate tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici creati dal fascismo. Le sentenze già pronunciate in base a tali disposizioni sono annullate, quindi le persone che se fossero state condannate nell'epoca fascista per attività contro il regime devono essere liberate. E questo riguarda coloro che erano stati colpiti dal fascismo. Ma poi ci sono i fascisti che hanno colpito. E l'articolo 2 prevede I membri del governo fascista, i gerarchi del fascismo colpevoli di aver annullate le garanzie costituzionali dello statuto albertino, di aver estinto le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesse tradite le sorti del paese condotto all'attuale catastrofe, è il 1946. Sono puniti con l'ergastolo e, nei casi di più grave responsabilità, con la morte. Essi saranno giudicati da un'alta corte di giustizia composta di un presidente e di otto membri nominati dal Consiglio dei Ministri fra alti magistrati, che però erano stati tutti nominati sotto il fascismo. Questo è il punto cruciale, che l'applicazione di queste norme di transizioni deve essere applicata da una magistratura che è sorta durante l'epoca fascista. Articolo 3. Si riferisce a quelli che non hanno fatto parte della struttura dello Stato fascista. Coloro che hanno organizzato squadre fasciste, le quali hanno compiuto atti di violenza o di devastazione, e coloro che hanno promosso o diretto l'insurrezione del 28 ottobre 1922, che abbiamo celebrato nei giorni scorsi, sono puniti con l'articolo 120 del Codice Penale. Poi coloro che hanno promesso il colpo di Stato, eccetera, chiunque ha commesso altri delitti per motivi fascisti o valendosi della situazione politica creata dal fascismo, è punito secondo le leggi del tempo. Principio latino tempus regit actus. Se all'epoca della commissione di quel fatto esisteva una norma che lo puniva, si applica quella norma. Adesso non approfondirei ultimamente. Questi testi legislativi vanno letti privatamente e pensati. Letti così danno un'idea ma poi vanno approfonditi. Quello che colpisce in questi testi è che si fa riferimento a delle fattispecie che sono piuttosto indeterminate. Cioè esiste una vaghezza terminologica in cui coloro che hanno promosso o diretto il colpo di Stato, cosa vuol dire promosso o diretto? Aver collaborato con i nazionalsocialisti. Se io faccio il panettiere e vendo regolarmente il pane al sottufficiale nazista che viene a comperarlo, collaboro o non collaboro, per fare un esempio estremo, no? E quindi questa vaghezza ha due cause. Non è necessariamente un errore. Una delle cause della vaghezza terminologica deriva dalla natura politica o fattuale del comportamento punito che non è quantificabile o comunque determinabile con precisione. Lo dico, chi ha promosso la marcia su Roma, ma cosa posso aver fatto? Posso aver fatto veramente delle sedute di piazza incitando a partecipare o posso aver scritto un articolo su un giornale dicendo che in fondo questi signori marciavano su Roma e tutti i torti non li avevano o cose del genere, dicendo magari che se il re voleva fermarli aveva l'esercito a Roma che poteva fermarli. Tenete conto che non erano armati militarmente quelli della marcia su Roma. Avevano delle armi raccattate qua e là, cioè fucili da caccia, armi catturate alle guardie notturne o roba del genere. A Roma c'era l'esercito italiano a tutela delle massime istituzioni allora monarchiche e di conseguenza c'era di che effettivamente bloccare la marcia su Roma. Quindi devo dire che cosa potesse, cioè le terminologie qui oscillano notevolmente, no? Il problema centrale, e vi ripeto, è la collaborazione o il collaborazionista. Come distinguere gli atti, virgolette, atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista dagli atti rilevanti? Se io sono un impiegato pubblico e faccio il mio mestiere nell'epoca in cui c'è il fascismo, è chiaro che contribuisco a mantenere il regime fascista. È ciò punibile oppure no? In altre parole, ritorniamo al discorso generale sull'interpretazione. Di fronte a norme di questo genere vi rendete conto che al giudice viene delegato un potere discrezionale estremamente esteso. Per esempio, vi do un ultimo caso, chi per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo abbia compiuto fatti di particolare gravità che pur non integrando gli estremi di reato siano contrari a norme di rettitudine o probità politica è soggetto alla interdizione temporanea dei pubblici uffici oppure alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore ai dieci anni. E ci sono altre norme di questo genere. Voi capite dalla formulazione linguistica che all'interno di questi comportamenti può essere compreso di tutto e viene delegato al giudice un potere estremo. Quindi, in realtà, che cosa capita? Vi dicevo, sono due le origini di questa duplice... come dire, due le origini di questa vaghezza terminologica. Da un lato il fatto che si devono individuare dei comportamenti politici o fattuali estremamente vaghi. Dall'altro, più sottilmente, il legislatore vuole attuare una politica che chiamerei simbolica, cioè dire io sono un duro, punisco quelli che hanno commesso questi reati, eccetera. Tanto poi so che applicare queste norme, vaghe e generali sarà una magistratura che è tutta di origine fascista e di conseguenza provvederà la magistratura a attenuare, tagliare, disapplicare, eccetera. I due elementi erano presenti. Cioè, indubbiamente risultava, sapendo com'era la struttura dell'amministrazione pubblica e della magistratura, il legislatore poteva fare la voce grossa nella certezza che non avrebbe scatenato una persecuzione generale. Considerazione generale non solo su questa, ma su tutte le giustizie transizionali. Quando viene coinvolto l'apparato statale di un intero paese, è evidente che voi non potete bloccare il paese. Qualcuno dovrà far funzionare i catasti, i tribunali, l'ufficio di Stato civile, la gestione delle strade, la nettezza urbana e di conseguenza l'apparato statale che esisteva e che in venti anni era stato chiaramente in Italia permeato da una politica del personale fascista, non può essere cancellato da un momento all'altro. Oppure lo Stato cade nell'anarchia più totale. Il problema della giustizia transizionale è anche questo. Come salvare il funzionamento al motore minimi dell'apparato statale, ma al tempo stesso punire i casi più evidenti. I giudici a questo punto si trovano investiti di un potere enorme rispetto a quella che è l'attività giudiziaria di tipo normale. L'epurazione, e questo è quello che comporta l'abbandono della carica e che però, se applicata con eccessiva radicalità, porta alla paralisi di tutto l'apparato statale e di tutti i servizi. Sono dispensati dal servizio, che è una forma elegante per dire sono i purati, sono dispensati dal servizio coloro che, specialmente in alti gradi, ma il nostro amico caporale che ha lasciato il faro non era un alto grado, ma non era specialmente, vi rendete conto il peso delle parole, specialmente gli alti gradi, però se poi sei un basso grado e io ritengo giudice che la cosa ti riguardi, lo applico ugualmente. Sono dispensati dal servizio, e purati, coloro che, specialmente in alti gradi, col partecipare attivamente alla vita politica del fascismo, potevate non partecipare all'epoca in cui vi prescrivevano di presentarvi in camicia nera alle riunioni. Certo, mio padre, per esempio, che non era, mio padre è stato espulso dal partito fascista con una motivazione tipicamente italiana, espulso per mancanza di spirito fascista. Cioè mio padre non era antifascista, non gli piaceva il fascismo perché aveva un senso dell'umorismo molto forte. Questi signori con pancetta che saltavano attraverso il cerchio di fuoco presentarsi in camicia nera, farei, eh. Infatti, lui partecipava alle sedute, ronfava, faceva dei rumori strani, lo buttavano fuori. Bisognava presentarsi in camicia nera, arrivava in camicia nera, sono dimenticato la camicia, torno a casa a cambiarmi, nessuno lo vedeva più. Per cui, lui aveva la famiglia da mantenere, e questo è anche il punto. Quindi non è mai andato in rotta di collisione, e alla fine hanno dovuto buttarlo fuori per mancanza di spirito fascista. Quindi, diciamo, gli ambiti discrezionali sono più ampli che mai, no? Però, si dice, partecipare attivamente alla vita politica. Se invece di mettere la camicia bianca e dire, ostia, ho dimenticato la camicia, torno a casa, forse arrivato con la camicia nera, avrebbe partecipato attivamente alla politica. Eh sì, volendo interpretare alla lettera questa norma, sì. Sì, o con manifestazioni ripetute di apologia del fascismo. Se io dico tre volte eia eia la la, è ripetuto o devo farlo più spesso? Cioè, vi rendete conto, vi cito questi casi un po' elementari, per il fatto che il giudice a questo punto ha a disposizione una serie di possibilità e, devo dire, voi capite, perché io ho dato tutti i concorsi possibili, meno quello di magistratura, perché a me l'idea di dover giudicare qualcun altro mi fa caponare la pedra, anche perché poi credo che io parteggerei per il deviante, normalmente, e questo sarebbe un pessimo servizio alla giustizia. Però è chiaro che ripetute apologie del fascismo, cosa vuol dire? Dai al giudice una possibilità discrezionale, enorme. Uno, parentesi, uno degli elementi che introduce l'informatizzazione dell'amministrazione pubblica e della giustizia è il fatto che queste norme non possono, specie se sono norme di procedure o di procedimenti, devono essere specificate, perché se no non sono automatizzabili. Cioè, esempio tipico, avevo detto le famiglie numerose ricevono una riduzione del 5% dell'IRPEF. Se si rende, come si fa oggi, automatizzata, cioè informatizzata, la fiscalità, e cioè l'applicazione delle norme fiscali, questa norma non funziona, perché il computer non può ragionare per analogia che cos'è una famiglia numerosa. Voi, per fare il programma, dovete scrivere nel testo di legge le famiglie con più o quattro, con meno o con più di quattro figli sono famiglie numerose. Allora, lì si genera un programma in cui si calcola c'è più uno, più due, più tre, più quattro, allora si esce nel ramo che è della famiglia numerosa. Se no, non si automatizza. Quindi, tra l'altro, questo poi è tutto un discorso a parte a cui dedicheremo eventualmente un apposito corso è il fatto che l'automazione introduce queste rigidità, riduce profondamente la capacità interpretativa, la possibilità interpretativa del giudice, perché il giudice può ragionare per analogia. Il computer fa quello che gli dite, quindi se non gli avete detto niente, lui risponde gronf e si ferma con le lucine basse perché è triste. Quindi, da questo punto di vista, vi rendete conto che la normativa di transizione è in realtà la normativa caratterizzata da queste norme vaghe, sia perché sono sfaccettate le fattispecie a cui applicarle, sia per motivi di politica simbolica, tanto so che poi la magistratura è quella vecchia e lo applicherà. Dopodiché, l'altra cosa è amnistia per i diritti politici, cioè quelli che sono stati, coloro che sono stati condannati, e qui però è concessa l'amnistia per i diritti e da tutta una serie che vi risparmio, per i reati commessi, eccetera, eccetera. attenzione, salvo che siano stati compiuti da persone rivestite di elevate funzioni di direzione civile o politica o di comando militare, ovvero, attenzione, siano stati commessi fatti di strage se vizie particolarmente efferate. Cioè, se io mi sono limitato a sediziarti, ma non mi è particolarmente efferato, sono esentato oppure no. Cioè, vi rendete conto? Il livello di responsabilità, un giudice qui, se ha la coscienza a posto, prima di emanare una condanna, ha veramente una crisi di coscienza, perché, soprattutto, se tu hai giudicato il caso A come particolarmente efferrato, ti sei messo una serie di vincoli per i casi analoghi in su o in giù che possono venire in segui. Vi volevo citare questo per dirvi come la misura di Togliatti, che è stata una misura di grande saggezza politica, era un grande politico, tutto sommato Togliatti, per cui, per salvaguardare la pace sociale, si è imbarcato, e ha imbarcato l'apparato statale, in questa procedura di amnistia che ovviamente ha lasciato impuniti una serie di reati. Tenete conto che parallelamente restavano impuniti anche i reati commessi da parte dei partigiani. Non è che fossero tutti stinti di santo da quella parte. E, d'altra parte, in una guerra civile, quando tu hai una persona davanti al mirino e lui spara a te o tu spari a lui, nel dubbio tu spari a lui. Questo è abbastanza chiaro. Quello che capitava a questo punto era che molti reati sono stati commessi anche nella fase finale della guerra dai partigiani, sia perché esistevano dei rancori pregressi. Se i fascisti ti avevano ammazzato delle persone di famiglia, il primo che tu prendevi lo facevi fuori. Io bene dico di non aver vissuto quell'epoca lì, perché realmente ci devono, doveva essere un problema di coscienza contigua. Dopo il 44, quando già si era nella fase di fine guerra, eccetera, sono capitati dei delitti, erano atti di vendetta, erano momenti di autodifesa. Ci sono stati il caso tipico di Moranino, per esempio, che era un alto funzionario comunista, che è stato condannato per degli eccidi di fascisti commessi dopo la fine delle ostività e che Saragat ha graziato. Perché effettivamente a un certo punto risulta magari alla lettera del codice e della normativa di transizione dire che ha commesso il reato e che di conseguenza va punito. D'altra parte, se tu consideri il contesto, la pressione sociale che esisteva sull'individuo, tendi a diminuire la colpevolezza e quindi a questo punto il tribunale l'ha condannato e Giuseppe Saragat lo ha graziato. Le cose poi, qui torniamo alle storie di famiglia, spiegano come questo sia stato un periodo di tensioni continue. mio nonno che era collega di Saragat Saragat ha fatto carriera mio nonno no, ma Saragat era già presidente della Repubblica e mio nonno gli ha scritto rompendo i rapporti con lui perché aveva dato la grazia a Moranino. Nel senso che per Saragat Moranino aveva delle colpe però poteva essere giustificato. Per mio nonno no. e questi due esempi valgono sono il capofila di due schiere di persone per cui l'amnistia di Togliatti è stata molto discussa però indubbiamente ha avuto il pregio di salvare la pace sociale. In fondo l'Italia divisa in due ha conosciuto una guerra civile, i partigiani che combattevano contro, i partigiani italiani che combattevano contro gli italiani della Repubblica di Salò, gli italiani dell'esercito regio che risaliva la penisola che combattevano contro i tedeschi e contro i repubblichini, cioè quelli della Repubblica di Salò sulla linea gotica. Era un'epoca di questo genere in cui nel bene e nel male l'amnistia Togliatti traccia una linea di chiusura e indica a partire da questo momento che si ritorna alla vita normale più o meno. Il problema è che poi la struttura dell'apparato statale è restata quella fascista quindi le epurazioni sono state fatte con la mano molto leggera in più è scattata la guerra fredda con in Italia il più forte partito comunista dell'intero occidente. Di conseguenza un timore degli Stati Uniti che dall'Europa orientale Jugoslavia sia pure un po' eretica venisse il comunismo a espandersi anche nella penisola italiana a partire da questo momento la sanzione degli Stati Uniti non pronunciata di esclusione del partito comunista dalla politica italiana. Togliatti è stato il primo e ultimo ministro comunista dell'Italia. Ricorderete che c'è stato un tentativo di apertura con il compromesso storico di Berlinguer figlio del Mario che abbiamo citato prima e che è terminato e che diciamo il compromesso il compromesso storico di Berlinguer trovava attenzione da parte di Aldo Moro e Aldo Moro ricordate tutti come è finito. non si sa poi veramente di preciso come sia finito e chi fosse l'ispiratore di quel o di quell'omicidio che in realtà ha cancellato la possibilità di un governo di coalizione tra sinistre e democristiani. Quindi praticamente l'Italia era entrata in questa orbita e di conseguenza segue in questa direzione. la magistratura non è stata epurata la Nuremberg italiana non ha avuto un pandan italiano e di conseguenza il governo nel contesto della guerra fredda è essenzialmente un governo democristiano legato al patto atlantico e agli Stati Uniti Su questo contesto di conseguenza interviene la seconda amnistia che questa volta è fatta dal deputato Azzara della democrazia cristiana che cancella i residui di punizione per i reati condannati dopo l'amnistia togliati. Quindi voi capite c'è un doppio filtro il primo è quello dell'amnistia togliati che però lascia aperte alcune punizioni con l'amnistia azzara anche queste punizioni amnistia è la cancellazione della pena individuale ripeto viene cancellata risultato finale praticamente lo troverete nel mio libretto più che un'amnistia è stata un'amnesia forse è anche necessario così tutto sommato a posteriori la conservazione della pace sociale e delle relazioni internazionali è necessaria perché in epoca di guerra fredda non avremmo non si sarebbe potuto controllare con precisione cosa sarebbe capitato se per esempio si fosse formato un governo di coalizione sinistra democristiana eccetera stando ai fatti dopo il fascismo subentrano due amnistie la prima è dettata dato gli atti con intenti precisi di pace sociale la seconda siamo già nel cinquantasei però piena guerra fredda è per cancellare gli ultimi residui di questo troverete poi la documentazione gli atti formali i testi legislativi se vi interessano nel libro però essenzialmente il discorso è questo se la cosa vi interessa io dedicherei l'ultimo quarto d'ora al testo di Massimo Tolenghi e cioè i riflessi che queste norme avevano nella vita privata ovviamente adesso dovrò trovare i passi che quando uno deve fare queste cose non trova mai ma ecco dunque questo signore viene da una famiglia ebraica di Torino io conosco bene lui e la famiglia perché la figlia era mia compagna di liceo ed è tuttora una delle mie vecchie amiche perché ormai si può dire l'età nostra è questa e di Massimo Tolenghi che è l'estensore di queste righe ricordo la partecipazione al movimento partigiano e il fatto che anche successivamente è stata una persona molto equilibrata e ha lasciato questa memoria che è ripeto il riflesso sulla vita individuale delle norme vaghe generali ed astratte che abbiamo visto in precedenza e come tutti gli ebrei cioè i cittadini italiani di religione ebraica era sottoposto agli obblighi degli italiani quindi ad esempio Massimo Tolenghi fa il corso allievi ufficiali dell'esercito italiano nel 1937 a Spoleto per me un mondo nuovo un mondo che rispecchiava ancora più evidenti le contraddizioni e le debolezze del nostro sventurato paese il 19 dicembre 37 con retorica di fanfare e bandiere la cerimonia del giuramento al motto obbedisco era iniziato il ventesimo corso allievi ufficiali di complemento su uno scalpitante cavallo bianco il generale Carboni futuro capo del valoroso quanto inutile tentativo di resistenza del settembre 43 a Porta San Paolo di Roma fiero giovanile sempre tra i suoi uomini caracollava con un narcisistico e autorevole distacco questa immagine per quanto me è bellissima a cavallo pure lui il colonnello Paolo Angioi che avremmo visto di rado a capo del nostro reggimento di fatto ha detto a tempo pieno al SIM Servizio Informazioni Militari e cioè il servizio segreto militare come uomo di fiducia del generale Roatta sempre altrove sempre affacendato in oscure imprese ideatore dello spietato assassino dei fratelli Rosselli nel 37 proprio nell'anno in cui si sta parlando il colonnello Paolo Angioi riconosciuto colpevole con il generale Roatta il colonnello Santo Emanuele e il maggiore navale dell'assassinio dei fratelli Rosselli fu condannato all'ergastolo dal tribunale militare a guerra conclusa trovò rifugio con il generale Roatta in Vaticano per poi virgolette esfilarsi come nel gergo dei servizi si definisce la fuga organizzata oltre frontiere e sfuggire infine alla pena grazie all'amnistia togliati quindi il Vaticano aveva attuato anche perché con il pontefice Pio XII c'era un legame con i tedeschi aveva organizzato più volte l'esfilazione dei nazisti anche dall'Italia però ecco questo già vi spiega nel caso concreto questi che sono i mandanti dell'assassinio dei fratelli Rosselli non sono stati puniti perché in un modo o nell'altro la l'amnistia togliati li ha liberati quindi ecco dunque leale è tutto d'un pezzo indimenticabile nei suoi atteggiamenti il giorno successivo all'Anschluss parliamo qui del maggiore Valentino Asinari di San Marzano gli Asinari di Bernezzo di San Marzano è una famiglia nobile fiemontese dice leale è tutto d'un pezzo indimenticabile nei suoi atteggiamenti nel 38 il giorno dopo l'Anschluss cioè l'annessione dell'Austria alla Germania nazionalsocialista dopo una notte insonne di attesa vissuta nelle camerate in manifestazioni antitedesche in parte spontanee e in parte alimentate da chi riteneva ancora che il Duce avrebbe mantenuto l'impegno di difendere l'Austria vi ricordate che l'Austria nel frattempo era diventata austrofascista e quindi Mussolini aveva preso l'impegno di garantire l'integrità fisica e l'autonomia dell'Austria il nostro maggiore in piedi sul muro del percorso di guerra brandendo alto e minaccioso il suo inseparabile frustino si sarebbe rivolto alla truppa a voce spiegata dicendo l'Austria è stata annessa dalla Germania nel momento in cui dal rovescio di una trincea vorrei ordinarvi baionetta in canna avanti Savoia devo invece comunicarvi che va tutto bene questo l'ordine che ho ricevuto da Roma questo mi spiega anche le contraddizioni che esistevano interno in questo poche settimane questo Valentino Asinari poche settimane dopo sarebbe stato lui a convocarmi al comando con Gadiel Friedenthal figlio del rabbino di Verona per dirci che ricorressimo direttamente a lui per qualunque cosa disgradevole ci fosse potuta accadere da quel momento l'avremmo trovato al nostro fianco per garantirci libertà uguaglianza e dignità di fronte ai commilitoni e superiori quindi sera vi ripeto questa presenza non antisemita abbastanza diffusa in Italia Massimo Massimo Ottolenghi dichiara di essere non praticante unica conseguenza spiacevole al momento fu che per disposizione del comando la mattina della domenica e delle festività religiose sarei stato destinato alla corvée di pulizia delle latrine e delle stalle così avrei garantito la massima partecipazione di chi aveva doveri e esigenze spirituali il maggiore di San Marzano cioè Casinale di San Marzano l'avrei incontrato dopo l'8 settembre 43 a Torino sotto i portici di via Cernaia in Borghese calzavo un grande basco da Chasseur des Alves sui capelli bianchi una corta mantella non avevo osato fermarlo voi capite anche questa atmosfera di continua diffidenza se io lo saluto gli creo dei problemi io non gli creo dei problemi in quel momento avevo sentito con gioia che eravamo dalla stessa parte mi ricordavo che quel giorno ormai lontano mi ricordavo che quel giorno ormai lontano degli anni in quel colloquio riservato al comando ci aveva confidato che per educazione per principi oltre che per matrimonio lui si sentiva anglosassone la cosa che è interessante è il matrimonio che deve che sta per contrarre scusatemi l'avevo segnato ma non ecco ah no no allora Massimo Massimo Ottolenghi e la moglie sono cittadini italiani di razza ebraica però per stabilire chi è di razza ebraica era stato stabilito un criterio particolare per cui si consideravano che entrambi i genitori erano di razza ebraica oppure uno dei genitori era metà ebraico e metà ariano e così via non c'era ancora questa forte immigrazione extraeuropea perché lì credo che sarebbero diventati matti a questo punto a me è capitato in Brasile di avere tra gli alunni una persona che era figlio di un indio e di un giapponese che a questo punto credo che quelli dell'ufficio della razza avrebbero alzato bandiera bianca comunque da questo punto di vista l'ufficio della razza istituito presso lo stato civile doveva stabilire quali matrimoni erano possibili e quali invece inquinavano la razza italiana quindi dovevano risalire ai nonni e eventualmente ai bisnonni era il caso in cui Massimo e Lida Ottolenghi che dovevano sposarsi nessuno dei due era totalmente ebraico quindi diventava quasi una questione algebrica quella del loro matrimonio l'ufficio della razza istituito presso lo stato civile era stato affidato a un avvocato mezzo sangue tripolino ricordatevi che all'inizio il fascismo aveva concesso la cittadinanza italiana ai libici parentesi personale mio padre all'esame da sergente è stato bocciato dal colonnello Ali Belfadel che era un tripolino colonnello dell'esercito italiano autore di una grammatica piemontese che ho trovato quindi devo dire quando si dice che si erano inseriti e qui infatti il responsabile dell'ufficio della razza è un tripolino voi capite che di fronte a queste cose i nazisti tedeschi erano totalmente incomprensivi per certo semita quanto potevo esserlo io ma ariano per meriti squadristici torniamo col discorso alla mia richiesta di pubblicazioni di matrimonio avevo posto difficoltà insormontabile i dettati della legge di Rosenberg che intendeva applicare lo impedivano con dovizia di dati e di alberi genealogici tracciati a matita in rosso e blu mi aveva illustrato che attenzione l'unione di un 50% come me con una 75% come la mia futura sposa avrebbe costituito un intollerabile peggioramento della razza italiana questo detto da un tripolino era inaccettabile inammissibile illecito ciascuno di noi due nel rispetto di quei principi noi due Massimo e Lida era tenuto a trovarsi un partner con identica percentuale di inquinamento razziale cioè io questo che vi dico che il riflesso nella vita personale fu allora che mio padre Ottolenghi padre era professore di diritto internazionale all'università di Torino quindi era un buon giurista fu allora che mio padre escogitò un piano l'importanza del diritto grazie a uno spostamento della residenza della mia futura moglie a Milano fu notificato in via preventiva all'ufficio di stato civile di Milano un atto di diffida con il quale si invocava la perseguibilità penale d'ufficio nei confronti di chi opponesse ritardi o ostacolo alla celebrazione di un matrimonio d'urgenza di un militare in servizio in spregio alla battaglia demografica cioè voi capite l'avvocato cioè il professore Ottolenghi padre recepisce e capovolge l'affrittata tutta la legislazione fascista per cui il figlio era uno in servizio militare stava partecipando alla guerra e di conseguenza impedivano un matrimonio da cui sarebbero nati qualcuno degli otto milioni di baionette che si aspettava Mussolini ottenemmo così la pubblicazione in via straordinaria nell'immediata scadenza del termine quasi clandestinamente a Palazzo Marino fu celebrato il nostro matrimonio era il 28 dicembre 39 quindi questo per dirvi ecco la Germania aveva invaso la Polonia da tre mesi le cancellerie di tutta l'Europa erano intente a predisporre gli schieramenti sugli opposti fronti storia generale storia individuale il nostro viaggio di nozze in realtà era una fuga un vagare da un grande albergo all'altro in località sempre lontane dalle città e sempre verso il meridione dove il nostro cognome Ottolenghi era poco noto un tipico cognome ebraico in Piemonte perlomeno non ci fermavamo più di due notti e alla partenza non rendevamo nota la nostra prossima destinazione un ultimo scampolo di vita dorata avevamo vinto ma eravamo sfiniti Lida la moglie stretta nella sua pellizia di astracan grigia io con il mio cappotto da cerimonia sperduti nel vuoto di androni russuosi e disabitati di saloni freddi circondati da personale inamidato sempre impegnati noi nel ricercare una nuova meta un matrimonio come il nostro infatti era non solo soggetto a nullità in quanto attentato alla razza ma comportava una condanna penale oltre che la posizione del timbro razza ebraica su tutti i documenti di identità con la conseguenza per con la conseguente perdita dei diritti civili ecco io vi leggevo questi passi che sono abbastanza significativi perché ovviamente le norme generali hanno questo valore astratto per cui uno può astrattamente indignarsi poi hanno questa ricaduta nella vita personale delle persone nel 1941 a Torino vi fu un'improvvisa recluscenza di attività antisemite al grido di morte agli ebrei fu inscenato un tentativo di dar fuoco al portale della sinagoga tutto il quartiere di San Salvario fu infestato di manifesti che aizzavano la popolazione al program si trattava di un'iniziativa capeggiata dagli addetti del consolato tedesco qui ormai le due cose si vanno sempre più mescolando di fronte all'aggravarsi della situazione ancora un paio di minuti poi termino di fronte all'aggravarsi della situazione oltre ad attrezzare la casa di Ala di Stura provvide ad assicurarmi la disponibilità di un alloggio a Ceres per i miei genitori e la sorella e di una stanza a mobilianza e di un'altra a coa solo perché bisognava predisporre delle vie di fuga la sapevo di trovare oltre ad amici come Peretti Griva e Sandro Galante Garrone che sono due numi tutelari dell'antifascismo torinese il coraggioso segretario comunale Michele Casassa che già cooperava per il rilascio di carte di identità e di tessere annonarie per persone a rischio perché quella della tessera annonaria noi non ci pensiamo più ma se voi ricadivate nelle sanzioni perdevate anche la tessera annonaria cioè non mangiavate più o mangiavate solo quello che riuscivate a trovare al mercato nero che cosa faceva per questi documenti falsi documenti di identità per persone a rischio consegnavo le fotografie a un suo zio che faceva il sarto a lanzo nelle valli in una piccola bottega semi nascosti in una viuzza della piazzetta antica mi sarei fermato spesso facendo finta di consultare i campionari e di misurare improbabili giacche cioè voi capite che tutta la vita viene trasformata quando la caccia all'uomo si sarebbe scatenata avrei sfruttato lo zio sarto a lanzo avrei ottenuto documenti preziosi anche per la mia famiglia e poi qui scatta però l'elemento sabaudo di questi italiani sottolino piemontesi di origine ebraica tutti questi mie attività furono però male accolte da mio padre e vennero salvati i documenti dalla distruzione solo grazie a un pronto intervento di mia madre mio padre vi vedeva un degradante e vile ricorso all'illegalità un'umiliazione una vergogna da me non solo accettata ma anche praticata come sistema la sua reazione nei miei confronti fu dura mi riteneva infetto dalla stessa degenerazione dei miei persecutori per tre giorni non mi aveva rivolto la parola io con questo termino vi ringrazio veramente dell'attenzione perché è stato un po' lungo però ci tenevo a presentarvi le due facce della medaglia se ci saranno quesiti adesso o in futuro non esitate a pormeli spero che comunque anche questa escursione nei testi del buon Massimo Ottolenghi abbiano servito siano serviti a darvi un quadro di quello che era la situazione se ci sono quesiti abbiamo tempo se no tra poco riprendiamo allora siamo solo le 11 e 10 prendetevi 10 minuti di pausa un caffè per endovena e poi andiamo avanti